In questo video metteremo alla prova le prestazioni della RTX 2070 Super, una scheda video che ha quasi 6 anni sulle spalle ma che ancora oggi può darci diverse soddisfazioni. Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Aropazzo. Oggi siamo qui per andare a riscoprire le prestazioni di una scheda grafica che quando uscì veramente fu una rivoluzione per tutta quella che era la fascia media, medio alta. Fa parte del refresh delle RTX Touring, le prime Nvidia RTX rilasciate uscirono un po' come è stato per l'ultimo lancio dell'RTX 4000 Super per andare a contrastare AMD con le sue nuove RX 5700 XT e 5700. E piccola parentesi, prossimamente vedremo un video dedicato riguardo la RX 5700 XT che era la cerrima rivale di questa 2070 Super. Però per oggi ci limitiamo a vedere le prestazioni di questa scheda confrontate con la 3060 per vedere se è una valida scelta nel mercato dell'usato al di sotto di 200€ o comunque su questa soglia. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok e ora direi di partire con le specifiche tecniche di questa 2070 Super. Uscita a luglio del 2019 quasi in contemporanea con il lancio delle AMD RDNA1 questa RTX 2070 Super andava a contrastare proprio la fascia più alta offerta da AMD cioè la RX 5700 XT. Al suo interno monta un chip TU104 basato sull'architettura Turing che all'epoca era la più potente di Invida ed era la prima ad avere al suo interno corde dedicati a Ray Tracing e Tensor Core per il Machine Learning. Al suo interno ritroviamo 2560 CUDA Core sbloccati e che operano a una frequenza di boost che arriva a 1800 MHz. Il tutto è accompagnato da 8 GB di memoria VRAM GDDR6 con un bus a 256 bit per un bandwidth complessivo di 448 GB al secondo. Pur essendo un modello di fascia relativamente alta per l'epoca questa scheda ha un TDP abbastanza contenuto per gli standard odierni parliamo infatti di 215 Watt. L'ultima specifica anche se non propriamente tecnica della scheda è il prezzo MSRP che aveva al lancio questa 2070 Super infatti costava 500 dollari che per l'epoca non erano pochi soldi per una scheda video sicuramente no però erano molto interessanti soprattutto rispetto al prezzo molto più alto della 2070 non Super che costava di più e andava di meno rispetto a questa. Ripeto tutta questa manovra di Nvidia serve più che altro per contrastare il lancio delle all'epoca nuove RDNA1 da parte di AMD. Detto questo direi ora di passare alla piattaforma di test che stranamente in questo caso è il mio computer con il Ryzen 9 7950X 32 GB di RAM a 6000 MHz CL32 con una scheda madre ASRock X670 e Steel Legend. Il tutto accompagnato da un alimentatore Endorphi Supreme FM5 Gold da 1000 Watt e da un dissipatore a liquido sempre Endorphi per la CPU che è il Navis F360 ARGB. Detto questo direi ora di partire con i benchmark e poi ci ritroviamo per le considerazioni finali. Piccolo disclaimer i risultati che vedremo della RTX 3060 risalgono al video di diverse settimane fa dove confrontavo la 1080 Ti con la 3060 appunto però vi dico vanno più che bene per essere confrontati con quelli che andremo a vedere fra pochissimo della 2070 Super. Quindi Cinebench 2024 in questo caso la 2070 Super è abbastanza di svantaggio rispetto alla 3060 quasi 2000 punti di differenza che non sono pochi. Su Blender Open Data 4.3 invece le cose si pareggiano anzi la 2070 Super fa qualche punto in più rispetto alla 3060. Se passiamo ad un altro benchmark di rendering Octane Bench in questo caso la 3060 è invece in vantaggio anche non di pochissimo rispetto alla 2070 Super. Mentre su Specview Perf la 3060 è quasi sempre indietro anche se non di tantissimo rispetto alla 2070 Super. Solo in 3D Studio Max la 3060 mantiene un leggerissimo vantaggio quindi tanta roba per questa vecchia GPU. Su Geekbench 6 abbiamo i punteggi per OpenCL e Vulkan e in entrambi i casi la 2070 Super è circa un 15% superiore rispetto alla 3060 quindi niente male. Su VeriRai 6 abbiamo anche qui due risultati CUDA Score e RTX Score e in entrambi i casi la 2070 Super mantiene un leggero vantaggio rispetto alla 3060. Alla fine parliamo veramente di una differenza minima. Su Stable Diffusion Automatic 1111 abbiamo invece che la 2070 Super mantiene un vantaggio abbastanza sostenuto rispetto alla 3060. 9,2 iterazioni al secondo contro 7,3. Sui giochi Control come primo Full HD Digital Foundry Settings abbiamo 136 fps contro 115 quindi non una differenza abissale però comunque un leggero vantaggio per la 70 Super. Stessa cosa per il 1440p nativo 83 fps contro 74 della 3060. Passiamo infine ai risultati con Ray Tracing e 1440p con DLSS 76 fps per la 2070 Super e 68 per la 3060 quindi questa scheda Touring è sempre in vantaggio. Su Alan Wake 2 Full HD DLSS Quality e Digital Foundry Settings abbiamo invece un buon vantaggio per la 3060, 72 fps contro 62 della 2070 Super. In 1440p con DLSS Quality stessi settaggi 49 quasi 50 fps contro 55 della 3060 quindi un bel 10% in più. Su Death Stranding Full HD e settaggi maxati abbiamo invece un vantaggio della 2070 Super 140 fps contro 124 della 3060. Se passiamo ai 1440p sempre stessi settaggi abbiamo 103 fps per la scheda Touring contro 95 della scheda Ampere quindi anche qui un bel vantaggio per la scheda di qualche anno fa. Su Fortnite capitolo 6 stagione 1 full HD e settaggi medi 220 fps contro 194 quindi siamo abbastanza vicini però comunque un leggero vantaggio per la scheda 2070 Super. In 1440p stessi settaggi 142 fps contro 132 della 3060 anche qui un leggero vantaggio per la 70 Super. Su God of War full HD e settaggi alti abbiamo due risultati abbastanza simili anche se mi ripeterò per l'ennesima volta leggero vantaggio per la 2070 Super. 100 fps contro 94, i 1440p e settaggi alti 77 fps contro 71 quasi della 3060 con anche ottimi risultati per l'1% low per entrambe le schede ovviamente. In 4K e DLSS prestazioni stessi settaggi 80 fps contro 72 e in entrambi i casi sono schede che con l'upscaling riescono a farvi godere un gioco anche in 4K. Su Cyberpunk 2077 full HD e settaggi di Hardware Unboxed abbiamo due risultati molto molto simili 91 fps contro 89 della 3060 se passiamo 1440p stessi settaggi 61 fps contro 60 quindi queste due schede si assomigliano veramente molto in questo gioco. Passiamo ora ai risultati invece con l'upscaling quindi 4K DLSS prestazioni stessi settaggi 70 fps quasi per la 2070 Super e la 3060 invece rimane un pelino indietro con 66 fps comunque in entrambi i casi perfettamente giocabile. In The Finals full HD e settaggi medi 135 fps contro stranamente solo 108 per la 3060 abbiamo appunto questo risultato che è un po' strano più che altro perché in 1440p invece la 3060 rimane invece la scheda superiore rispetto alla 2070 Super quindi cosa abbastanza curiosa. Su Resident Evil 4 Remake in full HD e priorità alla grafica come preset abbiamo la 2070 Super in netto vantaggio rispetto alla 3060 110 fps contro solamente 89 ma anche qui in 1440p la 3060 recupera molto del su frame rate perso 74 fps contro 72 quasi 73 fps di media. In Black Mint Vukong full HD e DLSS quality con settaggi di Digital Foundry abbiamo 57 fps di media per la 2070 Super contro 53 della 3060 quindi comunque un leggero vantaggio per la scheda touring. In 1440p sempre con DLSS e Digital Foundry settings 44 fps contro 42. Due risultati molto simili ma rimane lo stesso un leggero vantaggio per la 70 Super. Su Age of Mythology Retold full HD e setaggi maxati senza ray tracing 140 fps contro 138. Due risultati molto simili per entrambe le GPU. In 1440p sempre maxato ma senza ray tracing 95 quasi 96 fps contro 92 della 3060 quindi pure qua un leggerissimo vantaggio per la 2070 Super. Come ultimo gioco per la Final Fantasy 16 full HD di DLSS quality e setaggi maxati 63 fps contro quasi 60 della 3060. Mentre in 1440p di DLSS quality il gioco fa sentire il suo peso con 49 fps sulla 2070 Super mentre la 3060 non l'avevo testata a questa qualità quindi purtroppo il risultato non c'è. Mentre in full HD nativo abbiamo 47 fps per la 2070 Super e per la 3060 invece ci fermiamo a 45 fps. E rieccoci qui ragazzi dopo aver visto i test. Che dire, secondo me le prestazioni di questa 2070 Super considerando gli anni che ha sono davvero molto interessanti. Per il semplice fatto che molto spesso anche se confrontata con una ben più recente RTX 3060 abbiamo almeno in qualche caso delle prestazioni superiori. Poi ovviamente c'è il grande elefante nella stanza che sono questi 8GB di VRAM che devo essere sincero per la maggior parte dei titoli che abbiamo testato e quindi per il livello di prestazioni e di fruibilità dei giochi che presumibilmente andremo ad utilizzare con questa scheda secondo me vanno ancora oggi per la maggior parte dei titoli più che bene. Poi ci sarà sicuramente l'eccezione magari anche qualche titolo che deve uscire quest'anno un po' più pesante di nuovo lato VRAM che fa sì che magari la 3060 sia un pochino più avvantaggiata. Però alla fine abbiamo visto delle prestazioni che sono paragonabili quasi sempre magari questa 2070 Super nei giochi un po' dipende dal gioco ma andava un 5 massimo massimo 10% in più mentre negli applicativi di produttività alcuni favoriscono la più nuova 3060 mentre altri insomma o sono in pari o magari danno credito in più alla 2070 Super. Quindi sì è una scelta abbastanza impegnativa se dobbiamo decidere se prendere una 2070 Super oppure una 3060. Io sinceramente visto il mercato attuale propenderei più che altro su una 3060 per il semplice fatto di questi 12 GB di VRAM che potrebbero fare molto molto comodo e oltre al fatto che consuma diciamo qualcosina in meno. Per il resto però se troviamo la 2070 Super sui 150 euro che è un po' raro trovarla però si può fare quindi un pochino meno rispetto ai 200 o 180 a cui si trova la 3060 diciamo per questi 30 euro 40 euro risparmiati potrebbe aver senso alla fine optare per una scheda come questa perché abbiamo visto ancora oggi si comporta molto più che bene. Se lo troviamo allo stesso prezzo secondo me la 3060 è la scheda superiore. Tutto questo però mi raccomando prendetelo con i guanti nel senso che non sto considerando tutte le altre schede che si sono su questa fascia di prezzo che magari in parte abbiamo visto anche in passato e che vedremo in futuro come vi ho già anticipato la RX 5700 XT è una scheda che si trova molto spesso sotto i 150 euro e che almeno in alcuni casi ha prestazioni paragonabili con quelle di una 2070 Super quindi sicuramente anche quella è una scheda da tenere in considerazione ma ci sono di vari cavilli che ovviamente andremo a sviscerare nel video dedicato che vedremo più avanti. Quindi detto questo io chiuderei il video anche qui alla fine le prestazioni le abbiamo viste i consigli bene o male ve li ho dati quindi adesso sta a voi decidere se dovete prendere una di queste due schede in considerazione fare le vostre considerazioni e le vostre scelte. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di queste schede grafiche se le avete avute se le avete ancora o se invece pensate di acquistarle. Inoltre vi consiglio due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello che riguarda il confronto tra RTX 3060 e GTX 1080 Ti che abbiamo visto qualche settimana fa sempre qui sul canale mentre il secondo video che vi consiglio che riguarda schede grafiche di fascia un pochino più alta è quello riguardante il confronto tra RTX 4070 e Radeon RX 6800 XT. Detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!